Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi per la prima volta faremo vedere la mia faccia 3, 2, 1 e volevate, mi dispiace non posso ancora farvela vedere ragazzi, oggi farò un video dove andrò in giro praticamente, ma già ragazzi sono in bagno, siamo in camper e si muove e dove andremo in giro a Gallipoli, che è una città che stiamo andando a visitare comunque ragazzi, adesso, via con la intro eccomi, allora, sono partita un po' così, oltre a molto bellissimo sono appena entrati a Gallipoli, però, vabbè e tra poco andiamo a mangiare, però ancora non è certo vi faccio rivedere il tramonto, è benissimo qualche bancarella abbiamo di qua e appena andiamo a mangiare vi faccio vedere un po' di appena poi se prendiamo il gelato vi faccio vedere, non è detto il gelato comunque, in ogni caso vi aggiorno ciao a domani, ciao a domani, allora ragazzi, adesso scelgo una calamita per mia mamma che ci teneva l'apertura, vediamo, aspettate non lo so, vediamo qualcuna allora, a mia mamma non piace una cosa questo è l'ecco ci avete scritto ovviamente Gallipoli allora a me questa qui non dispiaceva vediamo di qua se ne sono altre vedi, tipo questa qui non mi dispiace perché è tipo Gallipoli, la città e alcuni cibi vari quindi non mi dispiace, vediamo qualcos'altro vado, raga, sta mascherina dà troppo fastidio vado, raga, ma che scusate, raga, ho la mascherina storta, un secondo ok, io si stiamo andando la mascherina comunque volevo vedere anche queste qui, io tipo non sono male c'è sempre scritto Gallipoli, però con le stelle marine attorno non lo so voi ditemi quale vi piace di più nei commenti aspettate, andate qua questa non è brutta col faretto no, questa non mi fa, le più belle altre, torniamo di là ecco guarda questa che bella questa mi piace per esempio poi mi raccomando scrivete qua sotto nei commenti oh guardate che poi li leggo allora allora vediamo quale no, poi sono salendo non lo so ma lo scegliamo quale scegliamo non lo so ho la valigetta allora questa vediamo mi piace cioè non è male non è male però vediamo se c'è qualcosa vabbè ragazzi vediamo dopo quando è sceso allora raga alla fine ne prendiamo un'altra un giro perché queste non ispiravano ecco comunque dopo quando non scegliamo un'altra raga bellissimo qui c'è qualche bancarella raga guardate che spettacolo è bellissimo siamo qua così è bellissimo raga aspettate faccio qualche foto aspetta raga guardate fantastico ma guardate che là c'è il legge questo è il legge sì questo è il legge no? guardate guardate eh vabbè a Allora ci stiamo scegliendo dove andare a mangiare Perché stiamo tutti morendo di fame E penso che mi prendo questo ristorantino qua Perché non posso farlo vedere C'è un primo quadro e mezzo però appena se ne va Sto io Scusate Guardate qua Non lo sono aspettate Non ti amo fuori Non lo sono fatta sugli scogli Qualche giorno fa Fa malissimo raga Ciao Raga dopo Targo Emma su Instagram Ha seguito la Tizia di Targo anche se ci posso Guarda se che bello è la mia scarpa Sono bellissime le nostre scarpa Guarda qua Ma in me sono molto più belle No il piede è il doppio del tuo Emma Mi dispiace dirtelo ma Ma cosa vuol dire? In me sono più belle Raga cioè guardate la differenza Cioè Cos'è sto cosa? Cos'è? C'è un cartone non il piede Ed è troppo piccolo Ma guarda le mie scarpe che belle Che belle le mie Raga scrivete Rifalle vedere Scrivete qua sotto nei commenti Quali vi piacciono di più Dovete dirmi La calamita E Queste Quali vi piacciono di più La calamita? Sì Ho detto Dopo Raga Vi faccio vedere quando ho fatto tutto 3 2 1 Sì Ma dove è che Raga ho messo 5 ingredienti in badina Ho messo Un soleggere Aspettate Sporco Siete in piedi Allora Allora Voi metto qua Allora Ho messo il salame campan... No Madonna Non si può vivere Salame staffa dolce Mozzarella artigianale Mozzarella fior di latte Mortadella artigianale Mortadella fior di latte Salame Salsina Salsina Vabbè La salsa di pomodori secchi E la lattuga Basta Poi faccio vedere il panino Ah raga Ho messo il pane e la baguette Raga ho cambiato Ho messo la cuccia Perché mi hanno detto Che è tipico Ma dopo Lei è già sfruttata A dopo Di tutte e quattro Lei già mangia Non posso farti Guardate Bellissimi Raga Ci vediamo dopo Quando finisco O comunque Quando vado a pregelato Raga Concludo Qual video Perché Ieri È successo Un disastro E non ho potuto Continuarlo Comunque Un bacio Un abbraccio Ciao Ciao